Enrico Chiesa è il più giovane presidente nella storia dell'Associazione Piacentina di Confagricoltura. Oggi il Consiglio Direttivo ha confermato al timone l'imprenditore agricolo di Fiorenzuola per i prossimi tre anni. La valorizzazione del Made in Italy rappresenta la priorità del suo secondo mandato. Fare capire quanto il nostro prodotto sia di qualità, quanto sia controllato, quante siano gli aspetti intrinseci positivi che ha il nostro prodotto, come poter fare capire al consumatore il fatto che valorizzare il nostro prodotto ha dei valori territoriali, dei valori di produzione, dei valori di controllo, dei valori legati a una produzione che ha una sua storicità. Nel frattempo si è chiuso ieri l'accordo sull'allocazione delle risorse della nuova PAC. Siamo rimasti un po' amareggiati dal taglio che è stato deciso a livello ministeriale. Era auspicabile un'impostazione di natura diversa. Evidenziamo comunque gli aspetti positivi riferiti soprattutto ai contributi aggiuntivi per il settore dei giovani, un settore come il nostro dove c'è un indice di ricambio generazionale più basso rispetto agli altri paesi europei. Tra le scadenze imminenti ha anche l'accordo sul latte. Sul latte siamo di fronte dell'incognite, intanto è che con il mese di giugno c'era anche il rinnovo del prezzo del latte, quindi auspicchiamo che si riesca a mantenere un livello dei prezzi come quello attuale, con una situazione dei trasformati invece in calo, che questa fa un po' preoccupare.